A pochi metri da dove ha trovato la morte Andrea Cristina Zanfir, la prostituta violentata e uccisa dal maniaco seriale Riccardo Viti, sorgerà un'area verde pubblica attrezzata per famiglie e bambini intitolata proprio alla giovane. Ad annunciarlo è il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha voluto iniziare il suo tour nelle periferie della città proprio da Ognano ad un mese esatto dall'uccisione della 23enne romena con un simbolico omaggio alla sua memoria. Per noi i simboli non sono soltanto qualcosa di astratto ma sono l'energia per poter realizzare cose per i nostri cittadini contro la violenza per la nostra comunità. Tra le novità in arrivo ha illustrato Nardella incontrando i cittadini della zona il via libera, i lavori del bypass di Ognano-Mantignano, la banda larga e interventi antidegrado. Presenti anche la neo assessora all'ambiente Alessia Bettini e il nuovo presidente del quartiere 4 Mirko D'Ormentoni che hanno accompagnato il sindaco nel cuore del quartiere dell'isolotto dove sta per partire il bando di riqualificazione della piazza del mercato. La lotta contro la sicurezza, contro la violenza, contro il degrado comincia dal ripopolamento dei luoghi pubblici della città dalla vita e dalla vivibilità dei luoghi pubblici e piazza dell'isolotto nel nostro progetto è uno di questi luoghi. La nuova piazza ospiterà eventi culturali, iniziative pensate in particolare per i giovani. Potevano essere le amministrative dei record per il PD toscano, invece no. Anche se alla fine i democratici hanno vinto in 164 comuni su 204 al voto e davvero non è poco la sconfitta di Livorno brucia e parecchio, visto che abbattere il candidato al sindaco del PD Marco Ruggeri è stato Filippo Nogarin, il candidato del Movimento a 5 Stelle, l'avversario politicamente più temuto a livello nazionale. Il segretario regionale del PD Dario Parrini ha dichiarato che non ci saranno rese dei conti ma che qualcosa dovrà cambiare per riconquistare Livorno fra 5 anni come già è avvenuto a Bologna e a Prato. È chiaro che dovremo fare una buona opposizione in consiglio comunale, rinnovare i gruppi dirigenti, dare più forze e vigore alla nostra azione e rafforzare la credibilità del Partito Democratico locale. A chi gli fa notare che i candidati al sindaco del PD che hanno perso sono tutti non Renziani, Parrini replica che non si deve analizzare il voto appiccicando etichette ai candidati. Ruggeri ha vinto le primarie, è un dirigente autorevole del nostro partito, è un amico, io ho sostenuto la sua candidatura, è evidente che a Livorno la richiesta di soluzione di continuità, di cambiamento era più forte di quella che noi abbiamo saputo offrire e su questo si interrogerà anche Marco come ci interroghiamo noi. Richiesta di cambiamento che il PD non ha colto neppure a Colle Valdessa, dove la sua candidata Emiliana Bucalossi è stata battuta al ballottaggio da Paolo Canocchi, ex sindaco del PC, dal 1980 al 1992 sostenuto da una lista civica trasversale. E alla fine, facendo un bilancio tra i comuni conquistati, Prato, Pesce e Montale e quelli perduti, Livorno, Colle Valdessa e Fiesole, il PD chiude in pareggio. Una mobilitazione positiva e propositiva. Così il sottosegretario, la presidenza del Consiglio Luigi Bobba, ha commentato le tante proposte, richieste e suggerimenti arrivate dalle associazioni toscane sul progetto di riforma del terzo settore allo studio del governo. Nel corso del convegno disegniamo il futuro organizzato da Cesvot al convitto della calza di Firenze. L'incontro si inserisce nella campagna di ascolto lanciata dall'esecutivo, che a fine mese approverà l'attesa legge delega. Molte le questioni sottolineate dagli interventi, dal riconoscimento giuridico a quello economico, dal 5 per 1000 al tema dei disgravi fiscali. Faccio un piccolo esempio, che le ambulanze paghino il telepass, il pedaggio autostradale, mi sembra un'assoluta, veramente fuori dal mondo. E tanti altri esempi, l'IVA sull'acquisito dei prodotti, l'ISC e così via. Altri temi caldi, la proposta di servizio civile universale per 100.000 giovani, fronte su cui la regione toscana parte già in vantaggio, grazie all'ultimo bando da 18 milioni di euro destinato a 2.500 ragazzi, assieme alla semplificazione delle regole per le associazioni nel settore del welfare. A partire anche da uno snellimento delle norme per l'affidamento dei servizi a livello locale a tanti soggetti del terzo settore e alla cooperazione di tipo B, che è essenziale per attuare una politica sociale più efficace. Grazie a tutti!